Non verrò mai con te, io sono tuo padre. Io sono tuo padre, un applauso all'equipe d'animazione che vi aspetta questa sera a Lilo Versilia con una bellissima attività e questa era solo un'anteprima di Suos Molli e Chast, un intro di Attivi di Orte, Animation Team later on in Lilo Versilia.